Musica Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. In apertura è Sulmona, la prima città d'Abruzzo ad entrare nel programma nazionale di prevenzione sismica Casa Italia. Vediamo i dettagli nel servizio. Sulmona entra nel programma nazionale di prevenzione sismica Casa Italia. In questa prima fase il progetto che investe 10 città in tutta Italia potrà contare su un finanziamento di 25 milioni di euro che serviranno per allestire un database sulla vulnerabilità degli edifici strategici delle 10 città individuate. Io ritengo che dobbiamo essere orgogliosi perché saremo noi i protagonisti di quella che sarà una vera e propria rivoluzione culturale nel modo di affrontare il problema del terremoto. Si passa finalmente dalla fase dell'emergenza a quella della prevenzione e noi saremo i primi in Italia. Ci sono 2 miliardi di euro stanziati per ogni anno per 20 anni. Consegniamo oltre al dossier anche una proposta che noi avevamo elaborato e su cui stavamo studiando fin dagli inizi del 2016 insieme agli ordini professionali, organizzazioni di categoria e gli atelier abruzzesi per elaborare una strategia sul tema della prevenzione. Non è l'unica attività che abbiamo messo in campo come regione, ricordo quello sul servizio regionale multirischio, sul riordio del sistema di proiezione civile, sul tema dell'allattamento dei cambiamenti climatici, sulla proposta di legge sul contenimento del sole e sulla rigenerazione urbana, ma in quella fase determinò comunque un contributo che evidentemente il governo poi ha tenuto in debita considerazione. Ed ora siamo alla cronaca giudiziaria. La procura di L'Aquila ha chiuso le indagini nell'inchiesta Metron. Indagate 4 persone, tra cui Antonio Sorgi, ex dirigente della regione Abruzzo e attualmente alla presidenza del Lazio di Teramo, e Rocco Micucci, ex presidente del CDA della Fira, la finanziaria regionale, e oggi sindaco di Rapino in provincia di Chieti. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio. Ancora guai per l'ex dirigente della regione Abruzzo, Antonio Sorgi, indagato insieme ad altre tre persone con l'accusa di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione del delitto di turbata libertà degli incanti. Per fatti commessi tra il 2009 e il 2013, la squadra mobile di Pescara, su delega della procura della Repubblica di L'Aquila, ha notificato quattro avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di Sorgi. Rocco Micucci, ex presidente del CDA della Fira, Iris Flacco, dirigente del servizio risorse del territorio e attività estrative nell'ambito del Dipartimento Opere Pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali della regione Abruzzo, Ercole Cauti, già amministratore della società Metron SRL, con sede operativa Mosciano Sant'Angelo. Le indagini hanno preso il via nel settembre del 2014, dopo l'arresto di Sorgi, nell'ambito dell'operazione Resole, condotta sempre dalla procura aquilana, relativa al bando di gara per l'ampliamento del cimitero di Francavilla al mare. Successivamente, sulla base dell'analisi di una cospicua moli di documenti acquisiti nel corso delle indagini, valutati e contestualizzati rispetto a numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, è stato sviluppato un nuovo finale investigativo sul presunto illecito l'affidamento di servizi e forniture per la gestione e l'assistenza tecnica di progetti finanziati con fondi europei gestiti dalla regione Abruzzo. Secondo l'accusa, Sorgi, in concorso con Flacco, avrebbe abilmente sfruttato il suo ruolo apicale all'interno della struttura regionale per favorire il suo amico imprenditore Cauti, titolare della Metron, società specializzata nella gestione procedurale e finanziaria di programmi europei, il quale si è aggiudicato cinque commesse pubbliche per centinaia di migliaia di euro relative alla redazione e alla gestione di progetti europei in materia di sfruttamento di risorse energetiche e protezione dell'ambiente, all'esito, sempre secondo l'accusa, di procedure di gare turbate in suo favore. In due casi, la società che si è formalmente aggiudicata la gara è stata la fira, ma le attività, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero state in concreto gestite sempre dalla Metron sulla base di pregressi e accordi occulti con Micucci. Ancora cronaca, non accetta la fine della relazione sentimentale e perseguita la ex compagna, minacciandola di divulgare le riprese audiovisive dei loro rapporti. Per questo un 32enne pescarese è finito agli arresti domiciliari su disposizione del GIP del Tribunale del capologo adriatico Elio Bongrazio, che ha accolto le richieste del PM Gennaro Varone. Il giovane, dall'8 febbraio al 27 aprile scorsi, avrebbe reiteratamente molestato la donna nei luoghi da lei frequentati. Secondo l'accusa, ha minacciato l'invio di circa 1.300 messaggi su WhatsApp e la divulgazione di riprese audiovisive dei loro rapporti intimi. Ed ora cambiamo argomento. A Pescara questa mattina è stata consegnata la laurea honoris causa in architettura al maestro Ettore Spalletti. Un'aula Federico Caffè Stracolma fatto da degna cornice, questa mattina la cerimonia solenne per il conferimento della laurea honoris causa in architettura al maestro pescarese Ettore Spalletti. Fra le tante personalità e amministratori presenti presso l'Università d'Annunzio, il presidente della regione Luciano D'Alfonso ed il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, visibilmente commosso Spalletti, che ha poi tenuto un alexio magistralis. Lo scultore e pittore nato nel 1940 a Cappelle sul Tavo, in provincia di Pescara, è iniziato ad esporre nel 1975, incominciando una carriera che l'ha fatto conoscere dal pubblico in tutti i principali musei del mondo, sia con mostre collettive che con mostre personali. Dal punto di vista istituzionale sono certamente da menzionare le personali presso il Museo Nazionale d'Arte di Osaka, al Guggenheim Museum di New York, la presenza al Musee d'Art Modern di Parigi, e ben quattro partecipazioni alla Biennale di Venezia nel 1982, nel 93, nel 95 e nel 97. Nel 2010 Spalletti è stato il vincitore del premio Terna per l'arte contemporanea. La sua arte è difficilmente definibile e solca i confini della pittura e della scultura, facendo uso di geometrie e linee all'apparenza semplici, ma di grande effetto plastico, visto il visibile sforzo dell'artista di relazionare spazio, colore e forma. Ed ora ci spostiamo a Chieti, dove ci sono novità per gli automobilisti. Sono attive infatti sei ZTL, quattro delle quali con telecamere che registrano il passaggio delle autovetture all'ingresso delle zone a traffico limitato. Tante le categorie che potranno accedere con richiesta di permesso, andiamo a vedere i dettagli nel servizio di Francesca Romana Testi. Novità per le ZTL nel comune di Chieti. Questa mattina sono state rese note in dettaglio tutte le specifiche per ottenere permessi con tutte le diverse categorie introdotte, orari di accesso aperti anche ai non autorizzati e l'introduzione delle telecamere che accerteranno infrazioni, annunciando già tolleranza zero. Attualmente ne entreranno in vigore con il sistema di rilevazione automatica, ne entreranno in vigore quattro su sei. Nei prossimi mesi poi attiveremo anche le altre. Ma non è che se non c'è la telecamera ZTL non è attiva. La ZTL funziona, esiste dal 1999 e va rispettata come tale. Per cui oggi ci sarà un occhio che ne rileva chiaramente con più attenzione l'inadempienza o il mancato rispetto delle regole da parte di cittadini o di altri soggetti e ci sarà anche la possibilità di un rilevamento continuo degli accessi e degli ingressi alle ZTL con le telecamere. Quello che tiene a specificare Polizia Municipale e Comune di Chieti è la possibilità di ottenere permessi per numerose categorie prima non inserite nel piano. Si potranno ottenere permessi a orario anche solo per un giorno e si potrà ricorrere ad eventuali sanatorie fino a 72 ore dopo l'ingresso non autorizzato. Con il nuovo regolamento che non è stato ancora pubblicato per cui a breve verrà pubblicato e diventerà esecutivo a tutti gli effetti prevede un accesso libero quindi per tutti quanti dalle 6 alle 8 la mattina e dalle 16 alle 18 sempre per tutti quanti. Gli altri orari invece sono previsti solo ed esclusivamente per quelli che possono essere autorizzati. Noi per i veicoli che non sono ad impatto ambientale quindi Eco 5 e 4 indicato proprio specificatamente sul regolamento hanno degli orari che è dalle 6 alle 8 per il carico e scarico. Gli altri invece quelli eco ambientali naturalmente hanno invece la possibilità di accedervi in qualunque momento. E ora siamo al congresso regionale dell'Adi Consum CISL a Pescara sul tavolo tanti temi soprattutto le istanze di lavoratori e cittadini consumatori. Congresso regionale dell'Adi Consum oggi a Pescara presso la sede della CISL. Umberto Coccia si parla di economia, di richieste dei consumatori e di tanto altro oggi. Sì, soprattutto l'Adi Consum è una situazione importante per la CISL perché diciamo che è trasversale rispetto a tutte le altre federazioni e difende e tutela i diritti dei consumatori diritti sia individuali che collettivi di concerto diciamo con le autoriti che ci sono le autoriti dell'energia, le autoriti dell'acqua, della luce, dei fornitori diciamo, delle compagnie che forniscono i servizi. E molto spesso i consumatori che hanno dei problemi non sanno a chi rivolgersi se non ai call center che spesso non impallano il lavoratore da un punto all'altro invece l'Adi Consum riesce a prendere in carico questi problemi e a risolvere. Dopodiché c'è anche tutta un'attività rispetto alle aziende una spinta alle aziende verso una concezione più etica più di sostenibilità ambientale, di rispetto dei lavoratori di rispetto dei contratti di lavoro. Quindi è un'associazione importantissima perché fa da supporto e va sui problemi assai concreti dei lavoratori e dei cittadini perché non solo i lavoratori si rivolgono all'Adi Consum per risolvere i loro problemi ma anche tutti gli altri cittadini che si sentono vessati o che sono oggetto di truffe di truffe anche via web molto spesso, di truffe telefoniche e quindi Adi Consum assume questo patrocinio, questa difesa. Ha parlato questa mattina di tante battaglie che ha portato avanti nell'ultimo anno l'Adi Consum. Sì, tantissime battaglie. Negli ultimi anni abbiamo gestito anche un fondo importante che è il fondo anti-usura e abbiamo tolto dalle grinfie, degli strozzini, tante persone e tante famiglie con questo fondo. Noi speriamo che la regione lo voglia rifinanziare perché è un volano formidabile per difendere le famiglie dal sovraindebitamento e quindi dal ricorso a finanziamenti illegali. E in regione Abruzzo, in particolare nell'assessorato della pesca, si è svolta una riunione per valutare la richiesta di autorizzazione per realizzare tre nuovi allevamenti di mitili sulle coste del Terramano. Conferenza regionale della pesca marittima e dell'acquacoltura questa mattina a Pescara, alla presenza dell'assessore Dino Pepe. Obiettivo dell'incontro, il rilascio di tre pareri relativi ad altrettante richieste di concessioni demaniali marittime per realizzare allevamenti di mitili nei tratti di mare antistanti ai comuni di Roseto degli Abruzzi e di Martinsicuro. La conferenza a parere solamente consultivo, poi sarà il Dipartimento del Turismo a concedere eventualmente alla concessione alle imprese che ne hanno fatto richiesta. Il passo successivo sarà quello dell'approvazione dell'assessorato al turismo, visto che le aree in questione rientrano nelle cosiddette aree protette. Una antistante il comune di Roseto con la riserva del Borsacchio, l'altra a Martinsicuro davanti a un'area tutelata per la riproduzione del fratino. Nella nostra regione attualmente sono in esercizio sei impianti di questo tipo, altre regioni del centro nord Italia hanno sviluppato molto gli impianti di acquacoltura, anche perché la nuova politica europea sulla pesca investe molte risorse sugli impianti di acquacoltura. E sempre a pescare iniziati i lavori di pavimentazione del secondo tratto di via Misticoni per la giunta Alessandrini. Si tratta di un'opera strategica per la circolazione stradale nel quartiere Porta Nuova. Vice sindaco Blasioli, oggi si parla di via Misticoni, la pavimentazione di questa strada, una strada non periferica, come ha detto qualche minuto fa, un'arteria importante nella quartiere Porta Nuova di Pescara. La terza grande arteria di collegamento nord-sud e sud-nord a Porta Nuova, io credo via Misticoni, ma non solo via Misticoni perché anche via degli Equi, via dei Sebbini, verrà completamente riasfaltata. Gli lavori sono iniziati questa mattina, ma sono dei lavori che seguono già la realizzazione della pista ciclabile, del percorso pedonale, dei parcheggi, un primo manto di asfalto per consentire la percorribilità e adesso il tappetino che arriverà proprio tra oggi e il 14 maggio. Tanto è l'ordinanza che abbiamo firmato per la ditta SACEP che sta eseguendo questi lavori. Assieme a questo c'è un contenzioso che va avanti ormai da tantissimo tempo, perché già nel 2002 venne firmata la convenzione del PUE con alcune imprese private, quindi c'era il problema di realizzare l'ultimo sfondamento di via Misticoni, cioè il lato verso la stazione di Porta Nuova, che ora abbiamo risolto con un verbale giudiziale di arbitrato che si è concluso a fine marzo. La ditta ha già rimesso il progetto al comune, ora questo progetto andrà approvato in giunta e poi la ditta SACEP che pare sia stata incaricata di questi lavori e quindi li dovrà terminare nel giro di 90 giorni. Questo consentirà al Tribunale e all'Università di collegarsi con la stazione di Porta Nuova, con la Tiburtina e soprattutto con il Ponte Nuovo. È indubitabile quindi che questa sarà una delle arterie più importanti di Pescara di collegamento da una parte all'altra della città. Questa mattina il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, è stato a Teramo, nell'istituto di Popparozzi, per visitare la scuola ed incontrare gli studenti e anche per capire di quali interventi necessiti la struttura scolastica. Vediamo il servizio. Il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, ha salutato questa mattina gli oltre 1.100 alunni dell'istituto superiore di Popparozzi di Teramo, che annoverà l'indirizzo alberghiero agrario e commerciale. Il presidente è stato accolto da una nutrita rappresentanza di studenti che gli hanno mostrato una creazione artistica che sintetizza l'arte figurativa con la coltivazione delle piante, una composizione vivente di vari vegetali che sono inquadrati in una cornice che può essere collocata in una parete. D'Alfonso ha poi visitato i laboratori di chimica e fisica, i gabinetti botanici e i siti di coltivazione e si è intrattenuto con gli studenti a cui ha chiesto i programmi per il loro futuro. Al termine della visita il presidente della regione ha chiesto alla dirigente scolastica di trasmettergli al più presto una dettagliata mappa di tutti gli interventi di manutenzione di cui necessita l'istituto. Poi mi complimento con i ragazzi che ho conosciuto, che sono intervenuti, con questa comunità di insegnanti che davvero sente un rapporto morale con l'attività lavorativa e poi anche con il dirigente scolastico che io continuo a chiamare preside. E poi la missione educativa di questa scuola è una missione di straordinaria modernità anche tenendo da conto dove è nata l'economia agraria nel centro-sud. Ha a che fare con l'Abruzzo e dell'Abruzzo ha a che fare con Teramo. I ministri del Regno erano ministri che concepivano lo sviluppo dell'economia attraverso l'estrazione della potenzialità della terra. I comizi agrari nascono qui ad opera di Giuseppe De Vincenzi di Notaresco e mi piace moltissimo essere venuto all'interno di queste mura che sono una scuola storica per cercare di capire come procede l'educazione con finalità di economia agricola. E' sempre a Teramo illustrato il programma dell'Abruzzo Open Day che riguarda le tre DMC teramane che prevede una serie di eventi turistici a partire dal 27 di maggio e fino al 4 giugno nel corso dell'incontro. E' stato presentato in anteprima anche un video promozionale Abruzzo Summer 2017 realizzato dall'assessorato al turismo della regione il servizio di Tania Bonici Castelli. Due settimane di grandi eventi turistici animeranno borghi e paesi del Terramano. Dal 27 maggio al 4 giugno potranno essere vissute più di 100 avventure uniche da chi sceglierà di venire in Abruzzo e in particolare in provincia di Teramo. Il programma Open Day Summer 2017 è stato presentato alla Camera di Commercio di Via Savini dai rappresentanti delle tre DMC teramane, Gran Sasso Laga, Riviera dei Borghi ed Acquaviva e Adriatica. Sì, perché il turismo è senza limiti territoriali. La Riviera dei Borghi e Acquaviva, quindi il territorio del Cerrano fino a Vomano, è un progetto dedicato alla famiglia dal Cerrano Family Festival che si trarà nei comuni di Pineto, Atri e Silvi partendo dal grande concerto di Roberto Vecchioni ad Atri passando per le attività sportive di Roseto importantissime, pattinaggio e bike e arrivando all'evento del cicloturismo di Pineto. Poi avremo la zona del Vomano e del Valfin dove saranno interessate dai progetti dei custodi del gusto dove porteremo buyer internazionali, tour operator e non solo, anche turisti a conoscere il territorio, a cucinare e assaggiare i notti piatti tipici finendo con la Fondazione Menegaz a calze basso con l'evento da 0 a 100 dedicato sia alle famiglie ma anche ai più anziani. Il territorio del quale la DMC Gran Sasso Laga si occupa parte da Civitella e finisce nel Gran Sasso prende praticamente l'entroterra Terramano e stiamo preparando le unicità del nostro territorio che le abbiamo un po' riassunti in tre rami. Abbiamo la parte di Teramo dove ci sta il ballo del saltarello che vogliamo promuoverlo come un'unicità nostra e che ha un attrattivo turistico innegabile la parte enogastronomica e storica con Civitella e Campi che insieme faranno queste espressioni e la parte del sport outdoor con le attività che si fanno in montagna perché la nostra montagna permette di fare tutto. Open Day è proprio quella finestra di opportunità ricettive che vengono lanciate ai mercati nella logica di far esprimere tutte le ricettività del nostro territorio. Per noi è fondamentale il fatto di esprimere le emozioni del nostro territorio ma soprattutto tenere la barra ferma perché che se ne dica le prenotazioni vanno bene, l'Abruzzo piace e i nostri clienti sanno con chi stanno parlando. Nel corso dell'incontro a Teramo è stato presentato in anteprima il video promozionale realizzato dalla Regione Abruzzo per il rilancio del turismo estivo abruzzese che punta ad essere un turismo slow in poche parole una vacanza attiva ed esperienziale. Innanzitutto c'è un'attenzione fondamentale che parte immediatamente da sabato 6 con i due borghi del cuore che sono Civitella del Tronto e Castelli che riguardano proprio quei luoghi vulnerati dagli eventi calamitosi di fine anno e inizio gennaio. Questa è un'attenzione che è dovuta anche al fatto che il rilancio passa attraverso una ricostituzione del posizionamento generale a Regione Abruzzo in tema turistico e che riguarda fondamentalmente il tema che ci sta più a cuore che è quello della vacanza attiva il turismo slow. A vasto ultimo appuntamento con i giovedì rossettiani organizzati dal Centro Studi diretto da Gianni Oliva ospite il cantatore e professore Roberto Vecchioni che ha parlato di tanti temi spaziando dalla letteratura alla cultura per arrivare all'amore. Sentiamo. Roberto Vecchioni è una serata in cui ha tenuto una lezione magistrale direi di letteratura, parole e pubblico attentissimo c'erano anche tanti giovani e forse a quelli che a lei piace parlare di più. Sì, perché l'eredità è per loro devono portare avanti un discorso di cultura di bellezza che non sono cose inutili serve soltanto lavorare, vivere, campare eccetera no, se si campa senza cultura si campa male la cultura dà un senso a tutto e allora i ragazzi ma da tanti anni sono sono quelli a cui parlo i ragazzi per me sono il pubblico ideale Nella società multimediale fondata sulla rete quanto è importante ancora la cultura classica che lei stasera ha ben esposto? Io ribalterei la domanda quanto è importante una società multimediale basata sulla rete davanti a una cultura classica ma è abbastanza importante una società multimediale basata sulla rete ma non arriva nemmeno al 30% di quello che è la cultura in generale Ci ha detto che inorridisce un po' quando sente parlare male scrivere male immagino che ultimamente poi sentendo televisioni, politici starà spesso inorridito Ormai ci ho fatto il callo ma come tanti credo la lingua italiana sì è un optional ormai ognuno la usa come vuole pare che stiano eliminando anche i congiuntivi non so come faremo a parlare e vabbè al limite basta farsi intendere però il peccato è che non c'è più questa trasmissione di sfumature la lingua è bella perché ha tante possibilità di essere sviluppata se tu dici quelle 5 o 6 cose e non ne sai le altre 500 non sarai mai capito perfettamente è un peccato soprattutto nell'amore nella comunicazione dei sentimenti Ed ora siamo allo sport con il calcio di Serie A dopo domani penultimo impegno casalingo per il Pescara contro il Crotone tra i biancazzurri in dubbio Cesare Bovo le cui condizioni saranno valutate dallo staff sanitario nelle prossime ore in caso di forfè viste anche le assenze di Campagnaro, Stendardo e Vitturini potrebbe essere il turno di coda al fianco di Fornasiera a centrocampo Bruno prenderà il posto dello squalificato Muntari in attacco Cerri e favorito su buyback gara da ex invece per Alessandro Crescenzi il cui futuro sarà da verificare nonostante un contratto in scadenza nel giugno del 2019 ascoltiamolo Alessandro Crescenzi arriva domenica il Crotone tra l'altro una partita anche un po' particolare per te perché quando eri ancora molto giovane hai giocato proprio in terra calabrese con la formazione rosso-blu Sì, ho giocato a Crotone circa 5-6 anni fa ho un ricordo molto bello di Crotone e niente domenica dovremo fare una bella partita purtroppo ci siamo giocati la salvezza ci dispiace tanto però non dobbiamo non dobbiamo fare brutte figure dobbiamo impegnarci e onorare la maglia fino all'ultima partita di campionato A proposito di salvezza sarete arbitri della lotta salvezza perché affronterete il Crotone che è diretta concorrente dell'Empoli per evitare la terz'ultima piazza Sì, è vero ma non per questo ci risparmieremo in queste ultime partite come ho detto poco fa daremo il massimo fino all'ultimo minuto dell'ultima partita Come si fa a trovare degli stimoli in queste partite in cui c'è davvero poco da chiedere? Sì non è facile però è giusto che fino all'ultimo minuto sputiamo sangue e sudore per questa maglia che dobbiamo dobbiamo onorarla fino alla fine perché è una grande maglia e ci dispiace per come sia finita quest'anno non ce l'aspettiamo nemmeno noi Sarà facile anche dal punto di vista ambientale giocherete in uno stadio probabilmente semivuoto con la curva ancora una volta senza gli ultra anche questo sarà un ulteriore diciamo problema per voi sotto un certo aspetto Sì però dobbiamo giocare quindi giochiamo e cerchiamo di vincere la partita non vogliamo regalare niente a nessuno Tre gare al termine della stagione poi si inizierà a pensare al futuro il futuro di Alessandro Crescenzi sarà Pescara il prossimo anno oppure no? Io ho ancora due anni col Pescara quindi non lo so comunque a fine anno tireremo le somme col presidente con il mister e vedremo cosa succederà comunque io ho due anni e qui mi trovo benissimo a Pescara e niente vedremo a fine anno Andiamo in casa a Crotone ora la partita dell'Adriatico Cornacchia che sarà diretta da Russo Di Nola è importante per i pitagorici nel Crotone saranno assenti Stoian Crisetic Falcinelli si candida per un posto da titolare a centrocampo Capezzi che andiamo ad ascoltare Sono tre punti importanti per la corsa salvezza andiamo a Pescara sarà una partita difficilissimo troviamo contro un avversario che esprime un grande calcio fatto di verticalizzazione quindi non sarà per niente facile dovremo affrontare la partita in modo giusto e portare a casa il bottino pieno stiamo bene stiamo bene stiamo giocando bene infatti i risultati arrivano e questa è la cosa più importante dobbiamo continuare così la retrocessione i giocatori si vorranno sicuramente mettere in mostra e dare tutto fino alla fine per orare il campionato come giusto che sia come detto prima sarà una partita difficilissima sì sicuramente se giocherò il mio obiettivo è quello di farmi trovare pronto e fare il meglio possibile per aiutare la squadra penso che il nostro obiettivo sia quello di disputare partita dopo partita giocarla al massimo e ottenere i più punti possibili in ogni partita alla fine vedremo sì abbiamo iniziato l'anno giocando là per cui il campo un po' lo conosciamo però comunque come ho detto prima la partita è difficile dobbiamo andare là con il piede giusto concentrati su tutti i particolari disputare una grande partita e ottenere il massimo sì speriamo speriamo che comunque i tifosi ci sostengano ne abbiamo bisogno ci danno forza e ci danno quello sprint in più per dare sempre il massimo ed ora siamo alla Lega Pro e dunque parliamo del Teramo che è partito in anticipo questa mattina per la trasferta che chiuderà il campionato sul campo della Feral Pissalò domenica prossima la decisione di anticipare la partenza è stata presa dal tecnico Ugo Lotti che non ha convocato Tempesti e Petrella a disposizione Spighi che ha recuperato ma il cui impegno sarà da valutare nelle prossime ore prima della partenza Ugo Lotti ha parlato nella tradizionale conferenza stampa la decisione della partenza è stata mia nel senso che volevo che questo gruppo rimanesse un pochettino più assieme avere la possibilità di allenarci due giorni su un campo in erba perché a che lunga che uno possa dire allenarci sempre sul nostro campo può creare delle problematiche ma soprattutto per stare assieme perché siamo arrivati nel momento cruciale la società mi ha dato questa opportunità io l'ho chiesto e di consenso sono ben felice che mi sia stato accordato ma io non penso che si vincano le partite rischiando in più si vincono le partite giocando meglio in modo equilibrato come abbiamo sempre cercato di fare dobbiamo abbiamo alcune situazioni da valutare perché è stata una settimana con qualche piccolo acciacco abbiamo questa incognita delle tre di file però decideremo l'ultimo decideremo sicuramente dovremo fare una partita dai toni molto elevati aspettando dall'altra parte una squadra che dalle dichiarazioni che ho letto ambiscono a conquistare di nuovo altre posizioni di conseguenza troveremo sicuramente una squadra in salute però non è la maniera di rischiare mettendo più attaccanti e meno attaccanti che le partite si possano vincere è il modo con cui si gioca che si vincono è l'atteggiamento è l'atteggiamento l'atteggiamento dobbiamo essere sicuramente più propositivi non fare calcoli perché torna a ripetere tutte le volte che abbiamo fatto calcoli purtroppo non siamo riusciti a arrivare al risultato di conseguenza mi aspetto sicuramente ma da come si sono allenati sicuramente faremo una grande partita beh sicuramente dovremo essere compatti cercare loro una squadra che ultimamente ha sempre giocato con addirittura domenica ha giocato con tre attaccanti perché Gerardi Ferretti e Guerra di conseguenza ha tre giocatori molto offensivi è una squadra che deve appena si conquista palla bisogna cercare di ribaltare subito l'azione di conseguenza oggi abbiamo provato alcune soluzioni sono contento di quello che ho visto e di conseguenza cercando di giocare un pochettino di più sulla velocità è vero noi non siamo una squadra molto veloce però dovremo sicuramente nell'ultima partita cercare di fare qualche cosa di più sulle ripartenze due giorni in Abruzzo per l'ex fuoriclasse della Juventus ed ex presidente del UEFA Michel Platini Lerua ieri è stato a pranzo in un noto ristorante a Casalbordino e oggi è stato a Guilmi sempre in provincia di Chieti dove ha preso parte ai festeggiamenti di San Nicola in mattinata Platini è stato ricevuto dal sindaco del piccolo comune dell'entroterra vastese Carlo Racciatti che gli ha fatto dono di prodotti tipici locali tra cui ovviamente la famosa ventricina a portare in Abruzzo Platini è stato Nicola Tracchia Guilmese che ha fatto fortuna all'estero e che possiede un importante hotel in Svizzera è tutto anche per la seconda edizione del TG6 il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 23 grazie per essere stati con noi buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti